Radio Radicale. Siamo con Gabriele Maestri, che penso che a Radio Radicale sia abbastanza conosciuto, che è uno costituzionalista e soprattutto un esperto di simboli, di liste elettorali, di diritto amministrativo dei partiti politici. Io utilizzo questo termine perché magari potrebbe essere l'idea per qualche università di istituire una nuova disciplina e con Gabriele Maestri noi vogliamo parlare dei simboli delle elezioni europee, cioè del clamore che suscitano alcuni simboli politici. Uno su tutti, quello di cui parleremo più di tutti, è saltato agli onori della cronaca, che è quello di Cateno De Luca, che ha presentato un simbolo con credo almeno 17 simboli. Poi Gabriele Maestri mi correggerà. In questo quadro noi vediamo sempre i solidi sgambetti tra partiti politici che cercano di copiarsi le idee dei simboli e cercano in qualche modo di pestarsi i piedi l'uno con l'altro. La casistica su queste vicende è infinita e credo che Gabriele Maestri ne sappia una più del diavolo, non perché le fa ma perché le vede. E a onore di Gabriele Maestri dobbiamo dire che le notizie che lui dà sono spesso copiate da grandi quotidiani che spesso in maniera ignominiosa non lo citano. Allora, io ho qui il simbolo di Cateno De Luca alle prossime elezioni europee, che immagino sarà, diciamo, sottoposto anche a delle modifiche, che è ricchissimo. Che cosa possiamo dire su questo simbolo e sulla fantasia di chi disegna i simboli dei partiti politici in queste elezioni europee? Vi scuso per la lunghezza dell'introduzione. Intanto un saluto a tutte e a tutti quelli che ci stanno ascoltando e grazie per questo nuovo intervento. Ormai credo che chi ascolta o chi segue Radio Radicale forse questo viso non potrà più vederlo, sarà stanchissimo, stanchissima. Diciamo che questo è un simbolo dei record, senza alcun dubbio. È un simbolo dei record perché non era mai accaduto una storia elettorale pubblicana dal 1946 in avanti, ma ovviamente nel 1946 se lo mettiamo, possiamo dire 48 se vogliamo dire autenticamente repubblicana, ma diciamo dell'ultima fase italiana, non abbiamo mai avuto un contrassegno elettorale, cioè ciò che sta dentro il cerchio, visto che in Italia siamo ormai abituati a questo, con così tanti simboli all'interno. Il record precedente probabilmente appartiene a qualche suppletiva, qui diciamo che il rischio di effetto carambolo, effetto biliardo di tanti pallini all'interno di un cerchio si era visto abbastanza spesso, perché inevitabilmente lì un candidato quando esistono le suppletive non può avere più di un contrassegno, ne deve avere uno soltanto, almeno con la legge attuale, quindi inevitabilmente devono andare tutti insieme, ma il record precedente a livello nazionale spettava a un altro simbolo per le europee presentato nel 1989, poi se vorrai ne parleremo, e quindi sicuramente è quello con più emblemi e lo era già, anche perché è andato a crescere via via, io ho parlato di mitosi letteralmente, perché all'inizio si era partiti con più o meno 6 simboli che poi via via si sono sdoppiati, qualcuno ha cambiato di posto, qualcuno ha cambiato anche Foggia, qualcuno ha anche sparito, l'ultimo, l'unico per il momento certamente sparito è quello del Partito Popolare del Nord di Roberto Castelli, che ha dato forfè per motivi che poi possiamo analizzare. Quindi certamente al momento ci sono all'interno di questo contrassegno, Scusami, stiamo parlando questo con la bandiera finlandese? Esatto, che si sembra finlandese, in realtà è verde scuro, è verde scuro, almeno come era stato pensato in origine, e ovviamente la croce di San Giorgio di Milano, della Lombardia, eccetera, però stavo dicendo, al momento quell'emblema contiene 17 cerchi, cerchi o parti di cerchio, c'è anche un movimento per l'Ital Exit che non è più su un cerchio, lì ce ne sono 4 vuoti, in realtà al momento sono 5, perché anche quell'emblema in effetti ha lasciato il suo spazio. Un record mai visto, che naturalmente poi si tratta di problemi anche di leggibilità. In questi giorni qualcuno chiedeva spesso, ma a che dimensioni siamo sulla scheda, non ci dimentichiamo che contrassegni si presentano normalmente in due versioni, 10 cm per il manifesto che viene messo, fisso fuori dai seggi e comunque sulle plance, e 3 cm di diametro sulla scheda. Se i conti sono stati fatti bene in proporzione, dovremmo avere, sempre che non succeda altro, i cerchi più piccoli di un diametro di 2,7 mm, quindi veramente un record. Quindi praticamente ci dovranno mettere un artista dell'incisione per stamparlo. Diciamo che rischiano di dover dare una lente o un contafili, per chi si ricorda che cos'era in allegato, per poter andare sulla scheda elettorale. Potrebbe essere, questa cosa potrebbe essere oggetto di ricorso, nel senso che io, se per esempio sono il segretario della lista Capitano Ultimo, io ne cito una di quelle più piccole, e adduo come ragione il fatto che il mio simbolo, nel simbolo di libertà, non si vede, e quindi viene occultato alla libertà dell'elettore, io potrei fare ricorso contro l'ufficio elettorale nel caso fosse illegibile. In teoria no, per un motivo molto semplice, non è una questione di confondibilità. Certo il messaggio non è chiaro, ma non è colpa di nessuno, se non di chi il simbolo l'ha congegnato così. Chi ne fa parte sa il simbolo come dovrebbe essere, e quindi poteva eccepirlo prima. Del resto, in queste settimane, alcune delle liti, probabilmente o delle incomprensioni, si sono consumate anche a partire dalle dimensioni dei pallini. Invito a chiunque volesse leggere uno dei commenti dello stesso Cateno De Luca, che parlava non di pallini ma di palline, e non parlava dei contenuti del contrassegno necessariamente, quindi possiamo anche riderci un po' pesantemente. Però ecco, per esempio il Partito Popolare del Nord, che ha dato Forfè, che lo ricordo ancora una volta, è questo insieme a questo qui sotto, loro stavano messi abbastanza bene. Stavano messi in un'altra. Perché io quando guardo i simboli, il primo sguardo mi va a finire proprio lì. Di fatto era rimasto uno dei più grandi, anche perché, verosimilmente, essendo tra i cofondatori, i copromotori di questa aggregazione elettorale, di questa lista, fronte, come è stato chiamato, o firmamento, come l'ha chiamato lo stesso Cateno De Luca, costellazioni, se vogliamo utilizzare un termine che mi pare non ti sia dispiaciuto, anche perché l'hai cognato tu, non certo io, beh, insomma, diciamo che non era una delle più piccole in quel caso. Quindi potenzialmente si è liberato almeno un posto. Dico almeno perché non si sa mai che ne rinascano due. Dovrebbe essere la prossima versione presentata tra qualche manciata di ore. Quindi giovedì mattina. Ho capito. Quindi siamo proprio working in progress. Assolutamente sì. Assolutamente sì. E come ha detto qualcuno sulla pagina, c'è chi pensa, spera o teme che arrivino altri simboli e chi mente. Roman Henry Clark, lo cito volentieri, perché in effetti è così. Graficamente è una vitaccia. Solidarità assoluta a chi deve cercare di mettere mano a questa grafica, che quando è così complessa e complicata, nel senso che ci sono tanti fattori, è impossibile che venga qualcosa di bello, inevitabilmente. Già fare simboli belli è complicato, ma quando bisogna mettere insieme tante individualità grafiche, diventa veramente difficile riuscire a fare un risultato decoroso. Ecco, paradossalmente si può dire che il simbolo più brutto è proprio quello di De Luca? In realtà, qui parlare di brutto, cioè non me la sento, per un motivo molto semplice. Lui ha portato all'interno di questo contrassegno il suo mood delle ultime campagne elettorali. Quando fu eletto come sindaco di Messina, aveva dei simboli simili, non proprio così, però il concetto era questo, tutti uguali, tranne che nei colori e nei nomi, ovviamente, delle liste, era una sorta di immagine coordinata, qualcuno potrebbe malignare, vabbè, se li è presi tutti quando gli hanno fatto e quindi tutte le cose di colore poi le ha utilizzate. Ricordo che con quello vinse, pur avendo la natra zoppa, perché di fatto le liste non avevano superato lo sbarramento che c'è in Sicilia, quindi di fatto aveva vinto senza avere i consiglieri di cui poteva effettivamente disponere. Però, al di là di questo, quando poi si è candidato il suo successore, quindi in continuità con lui, ha usato esattamente quel modo grafico di vedere e ha fatto la stessa cosa su Tormina, dove si è ricandidato ed è stato poi eletto sindaco e quindi Sud chiama Nord ha mantenuto lo stesso modo, quindi, un cerchio in buona parte campito di giallo, in questo caso, fascetta rossa, sempre leggermente inclinato per cercare di dare un po' di movimento alla grafica, cosa che a qualcuno dà anche un certo fastidio, non è il mio caso ma qualcuno l'ha fatto notare, del resto quello stesso simbolo ha cambiato faccia più volte e in una precedente conversazione avevamo parlato dello sbarco di Cattino Le Luca alle suppletive di Monza e lì era diventato Sud con Nord in effetti. In questo caso il nome rimane per almeno due ragioni, la prima perché quel simbolo avendo eletto due parlamentari alle ultime elezioni politiche con l'ultima versione dell'emendamento alle crete elezioni per diminuire il numero di esoneri dalla raccolta firme, beh, avendo eletto però nei collegi nominali era effettivamente esonerante e quindi il simbolo doveva restare. E dall'altra parte perché nel progetto originario ci dovevano essere una ma anche più sigle che erano certamente legate al Nord e fino all'altro giorno ce n'erano tre il Partito Popolare del Nord poi c'era il Popolo Veneto e Grande Nord che è l'ultimo che si è aggiunto e potrebbe esserci ancora qualcosa altro. Ecco, paradossalmente la defezione di Castelli di cui volendo parliamo ha fatto perdere un Nord che era prima addirittura citato ben tre volte potevano anche arrivarne altre. Ho capito. Ma ecco, perché se n'è andato via Castelli? Se n'è andato via per uno dei motivi questo almeno ovviamente ci atteniamo alle versioni ufficiali non ne abbiamo altre e a quel comunicato ci dobbiamo attenere se n'è andato perché pur essendo uno dei primi appunto della partita presentato nella prima conferenza stampa con un dialogo che è partito l'anno passato la festa dei popoli del Nord appunto con l'arrivo di Cateno De Luca in questa festa aveva posto il problema dei ricorsi anche civili probabilmente che ci sarebbero potuti essere da parte di Italexit tu hai parlato prima di possibili confusioni o rischi di confusione non è un mistero che quando era stata già solo annunciata prima ancora della conferenza stampa la partecipazione a quella lista e al contrassegno di un neonato movimento per l'Italexit coloro che sono tuttora o meglio che si qualificano il comitato di reggenza di quel soggetto politico quello che era stato guidato fondato e guidato da Gianluigi Paragone rimesso ovviamente alla fine dell'anno scorso hanno diffidato sia dal far ritenere che si tratti di quel soggetto politico quindi la serie non siamo noi quindi non ci si confonda ma hanno anche diffidato dall'uso del nome in tutto in parte e del simbolo in tutto in parte benché anzi proprio perché in realtà coloro che stanno lavorando a questa sigla erano stati fino a poco tempo fa dirigenti o comunque referenti locali coordinatori locali di Italexit effettivamente quindi volevano evitare che ci fosse questo tipo di confusione anche qui come vado a finire non si sa c'era una causa in realtà precedente che dovette affrontare Paragone all'epoca in cui un altro soggetto che ho fino a Migliaccio aveva già un movimento che si chiama Vitalexit aveva se ricordo bene fatto causa cioè Vitalexit con la V no no Italexit però stesso nome grafica differente naturalmente fece causa ma se o ben compreso non ottenne ragione in quell'occasione quindi potrebbe andare così anche questa volta non è detto perché in effetti qui c'è una scissione quando c'è una scissione diventa un po' più complicato proprio perché si ritiene che non si debba fare conclusione è anche vero che è una parte molto piccola del simbolo quindi potrebbe non essere visto certo Vitalexit è comunque un partito che ha corso alle ultime elezioni politiche è registrato nel registro dei partiti quindi ha una stabilità di un certo tipo sta di fatto che questa ragione era stata adotta cioè il fatto di non essere certi che non vengano fatte cause cui probabilmente potrebbero dover rispondere anche i fondatori del partito della lista nascente il timore magari di queste cause ufficialmente ha spinto Roberto Castelli e il partito popolare del nord a non partecipare più a questo progetto allora in merito io volevo chiederti questo il pianeta di questo simbolo dove c'è questa scritta libertà in mezzo se non ci fossero tutti questi simboli esisteva già un simbolo così libertà allora con quel nome che io chiamo Saturno perché è a metà sembra quasi un anello del libertà eccolo qua infatti libertà così cioè in quel modo a livello nazionale allora facciamo finta che non ci siano i 17 simboli libertà che cos'è? libertà era nato l'idea era nata come coalizione anche se in realtà è un unico soggetto politico l'europeo come è noto non sono possibili apparentamenti ma era soggetto politico di forze antisistema non delle perché ovviamente non ci sono tutte ma che poteva essere l'occasione per radunare il fronte del dissenso vogliamo chiamarlo così è stato chiamato in tanti modi perché naturalmente tutte e tutti hanno un grosso problema alle elezioni europee che si chiama sbarramento del 4% chi non anche non dovesse raccogliere le firme da questo punto di vista deve necessariamente per poter ottenere rappresentanza alle elezioni europee quindi più di un eletto perché chiaramente con il 4% si ottiene non soltanto una persona se non ottengono certamente di più ma deve arrivare al 4% a livello nazionale e non è assolutamente semplice per una forza soprattutto una forza politica radicata in un certo territorio in questo caso l'idea era mettiamo insieme più forze non ci dimentichiamo che Teno De Luca non lui personalmente ma su De Chiamanord è stato l'unico soggetto politico quelli esterni alle coalizioni più ovviamente il Movimento 5 Stelle e Italia Viva Azione a ottenere in quel modo parlamentari senza essere legati a minoranze linguistiche o realtà di altro tipo quindi comunque una sfida l'ha vinta ed è proprio in virtù di questo che ottiene l'esenzione a base regole che valgono quindi però certamente questa cosa valeva in un territorio quello della Sicilia particolare è quello che non è riuscito per esempio a noi di centro di Mastella la moglie Sandra Leonardo che era arrivata molto vicino all'elezione del suo collegio uninominale in Campania ma non c'è riuscita per poco però ovviamente questo non era assolutamente sufficiente per arrivare nemmeno vicino al 4% quindi inevitabilmente è stato un tentativo di somma di arrivarci almeno vicino per mettere insieme più forze forze locali e potenzialmente forze nazionali se avessero accolto l'invito come di fatto si è anche detto nei giorni precedenti anche dicendo di forze che avevano detto dei no ma in realtà poi Catanzo De Luca ha mostrato anche delle prove di simbolo per dire guardate che la trattativa c'era quindi le cose sono andate magari in un modo un po' diverso questo era il tentativo e se la questione del 4% in passato oltre che delle esenzioni ha fatto mettere insieme forze anche piuttosto diverse tra di loro non si era mai arrivato però arrivati però a un numero così elevato quindi ripeto è sicuramente un simbolo dei record per numero non forse per dimensioni perché quello più piccolo probabilmente in altri tempi complice anche i simboli più piccoli prima erano di 2 cm di diametro non di 3 quindi si sono raggiunti record veramente drammatici in quel caso certo sperare che una persona riesca a riconoscerli da lì veramente alto che lente o contafini ci vorrebbe ci vorrebbe ben altro allora io volevo chiederti questo è Coso qui è capitano ultimo allora è capitano ultimo veramente cioè capitano quello lì Sergio De Caprio Sergio De Caprio anzi questo è un altro dei record effettivamente di questo contrassegno perché normalmente siamo abituati a vedere come simbolo simbolo di che non riguardi un'unica persona ma riguardi appunto un soggetto politico un movimento politico tranne naturalmente nei casi di elezioni suppletive in cui c'è una persona da eleggere sostanzialmente in questo caso è la prima volta che all'interno almeno che io sappia naturalmente è la prima volta che all'interno di un contrassegno vengono inseriti prima uno poi due emblemi legati a una singola persona e capitano ultimo è stato appunto il primo di questi Sergio De Caprio era in conferenza stampa nella terza conferenza stampa se non mi sbaglio in cui era stato appunto presentato una delle evoluzioni del contrassegno perché una delle particolarità è che si è riempito via via cioè noi non sappiamo quanto prenderà alla fine ma con cadenza prima settimanale e poi addirittura infrasettimanale quindi con un intervallo minore addirittura aumentavano i cerchi non essendo ancora coperti quindi questo è stato veramente già questo è un successo comunicativo però volevo dirti una cosa se loro per esempio ogni simbolo di questi fa lo 0,35 0,35 e sono 17 simboli il 4% riescono a superare potenzialmente sì il problema vero è che naturalmente sappiamo benissimo che in politica 2 più 2 non fa 4 3,5 quando va bene quindi le somme sono sempre piuttosto rischiose tuttavia perché no potrebbe anche accadere in effetti esattamente quello che loro sperano e quello che loro sperano comprensibilmente perché naturalmente ci si può riuscire e l'idea è sempre stata questa avevo parlato di esempi simili in passato beh se ricordo bene nel 2009 primo anno in cui all'europea c'era la soglia di sbarramento quindi un anno importante e diverso rispetto al passato in cui bastava meno dell'1% per entrare in passato tanto per essere chiari così fu per alternativa sociale per esempio nel 2004 o per fiammatricolore direttamente beh dicevo nel 2009 c'era il problema del 4% e il problema delle esenzioni come c'è sempre stato io ricordo uno stranissimo accrocchio perché di fatto questo fu di una lista che si chiamava l'autonomia mi ricordo bene una sorta di Gall grande autonomia e libertà in anticipo in cui il soggetto esentante esonerante era il partito pensionati l'ultima volta in cui ottenne un eletto direttamente il 2004 che era appunto Carlo Fatuzzo come il suo leader che aveva questo simbolo anche piuttosto grande all'interno del quale era uno dei quattro temi contenuti se ricordo bene uno era alla destra di Storace con tentativo di inserirci anche una fiammella che però fu cassata quindi quello poi sparì mi pare che ci fosse l'MPA di Lombardo ma soprattutto c'era alleanza di centro di Francesco Pionati addirittura non arrivò al 4% naturalmente nonostante in teoria non fossero erano partiti comunque già esistenti in un modo o nell'altro comunque più o meno noti in questo caso siamo di fronte a varie situazioni siamo di fronte al di là dei due casi singoli e singolari dei due simboli che stanno per una singola persona quindi inizio capitano ultimo ci sono forze politiche già esistenti grande nord di Roberto Bernardelli che raccoglie una parte non irrilevante degli ex leghisti è un perfetto esempio ci sono soggetti nati da qualche manciata di mesi popolo veneto per esempio con base a Verona se mi ricordo bene ma poi ovviamente un po' ampliato ci sono soggetti appena nati noi agricoltori e pescatori ecco popolo veneto chi sarebbe Vito Comencini? esattamente ex parlamentare della Lega nella scorsa legislatura che ha creato appunto questo soggetto politico peraltro se mi ricordo portato in contatto proprio da Castelli in quell'occasione con un simbolo sistemato per l'occasione perché chi lo vedesse online vede un emblema leggermente diverso in precedenza questo quindi per dire che qui si sono mescolate realtà effettivamente diverse di nuovissimo conio quasi apposta probabilmente in questo caso realtà nate da qualche mese realtà un po' più consolidate lo stesso soggetto politico di Castelli forse non è così noto però aveva una storia più lunga di altre non c'è dubbio senti quindi il partito questo qui dei pensionati questo qui è quello di Fatuzzo? non esattamente o meglio c'era l'idea di costruirne un continuo in realtà tu probabilmente quando sei venuto a Viminale l'anno scorso anzi ormai due anni fa perché tra una cosa e l'altra due anni e mezzo fa era stato presentato il simbolo quello tradizionale ma con partito in alto che non c'era non c'è mai stato all'inizio Fatuzzo è disposto da tempo da questo punto di vista quindi non aveva portato avanti quell'attività lo ha fatto invece l'hanno fatto altre persone sostanzialmente e compreso un ex senatore anche se fu eletto con il PDL e peraltro subentrato nell'ultimo anno della sedicesima desilatura se non mi sbaglio e quindi non è lo stesso soggetto anche perché il simbolo non fu ammesso in quell'occasione proprio perché si trattava di un deposito senza delega insomma non era andata esattamente come doveva andare allora fu costruito un simbolo leggermente diverso nella stritta perché pensionati non è stato usato lo stesso carattere c'è un tricolore che era frottaggio che inizialmente non c'era e è stato messo partito pensionati più salute perché come ha detto il leader è il bene più prezioso in quella fase quindi è un partito che sicuramente prende le mosse da lì ma non è lo stesso soggetto giuridico ho capito ho capito senti un'altra cosa che mi aveva incuriosito era questo noi agricoltori allora in questo noi agricoltori ci sono cioè degli agricoltori che hanno manifestato in quest'ultimo periodo che abbiamo visto con i trattori in giro per l'Italia da quello premesso che i nomi ovviamente non si conoscono al momento se non coloro che sono intervenuti nell'ultima per adesso conferenza stampa si tratta comunque del soggetto federato da Francesco Amodeo inizialmente dato in predicato per essere candidato in democrazia sovrana e popolare poi in realtà aderente a questo raggruppamento elettorale e queste settimane ha spiegato di essere andato in giro per l'Italia a incontrare e federare soggetti appunto persone che quelle barricate o comunque quelle battaglie le hanno fatte e che comunque ci hanno messo la faccia anche come interviste in più di un caso quindi si tratta premesso che non esiste esistito tantissimo tempo fa il partito dei contaglini quindi qualcosa però che appartiene alla storia degli anni 40-50 sostanzialmente di questo paese ultimamente quei soggetti non avevano un partito o comunque una forza politica che li rappresentasse in modo diretto in questo caso si è coniato questo simbolo o comunque questo il gruppamento politico per dare anche visibilità a questo tipo di categoria naturalmente non possiamo conteggiare il peso e modificarlo perché è abbastanza presto però certamente c'è stata l'idea di andare a pescare anche da lì quindi che anche quel tipo di dissenso meritasse attenzione e quindi occhieggiare anche a questo occhieggiare naturalmente non in senso spregiativo semplicemente si è scelto di parlare anche in quella direzione sperando che questo possa portare voti che è poi quello che tutti fanno in campagna elettorale beh se uno riesce all'agricoltore va a votare non so non credo che ci riesca a vedere sul simbolo che c'è scritto agricoltori forse magari vota allora c'è quest'altro simbolo qua questo qui dei civici movimento dove c'è l'impronta di uno scarpone sopra che adesso non so se l'hanno copiata dall'uomo che ha messo il primo piede sulla luna no in realtà non è esattamente quello come carro armato però chi ha un minimo di memoria si ricorderà che un simbolo non proprio uguale ma molto simile lo si era visto perlomeno in Lazio perché in effetti è la continuazione non è nemmeno lo stesso stivale è lo stesso scarpone a guardare bene anche se somiglia molto ma in effetti era la figura di guida è Sergio Pirozzi quindi l'ex sindaco di Amatrice nel periodo del terremoto poi consigliere regionale eletto proprio con la lista dello scarpone Sergio Pirozzi presidente nel 2018 con l'idea per l'appunto che i civici così come vengono chiamati dovessero trovare rappresentanza e questo attraverso una persona che piaccia o no è al suo quarto comune da sindaco perché Cateno De Luca è attualmente sindaco di Taormina dopo essere lo stato a Messina dopo essere lo stato a Santa Teresa di Riva e dopo essere lo stato come primo comune a Fiume di Nisi il suo comune di nascita di origini quindi dice noi siamo civici noi nasciamo civici veniamo da lì quindi abbiamo tutti i titoli per esserlo e per dichiararci i campi ovviamente si può condividere o no un'impostazione di questo tipo erano in conferenza stampa c'erano anche altri assessori o comunque amministratori locali si è ritenuto di fare qualcosa che potenzialmente sfida anche la sorte perché in più di un caso si è parlato di tentativi di portare il civismo a livello superiore rispetto ai territori e però poi scelta civica ci ricordiamo come è andata anche con i vari sberleppi di simbolo partiti dei sindaci non erano andati ma anche l'Italia in comune che aveva per alto concorso compi Europa alle elezioni europee del 2019 non ha avuto proprio vita felicissima da questo punto di vista quindi utilizzare di nuovo il concetto di civico è comunque una scommessa non dico un azzardo perché sarebbe esagerato però una scommessa sì è rimasto il marchio sia pure rivisto graficamente dello scarpone perché appunto non è un mocassino non è una scarpa delicata ma è la scarpa di chi sta sul campo capito io non sapendo la storia che c'è dietro i civici movimento ho pensato al primo uomo sulla luna ma l'ho fatto per una questione di mia grande ignoranza politica sulla vicenda l'altra cosa che mi allora questo movimento questa cosa qua vita vita certo è un movimento pro pro life questo è un altro movimento di quelli già esistenti perché si ricorderà vita legato all'ex parlamentare Sara Cunial già 5 stelle poi presto nel gruppo misto era però la lista promossa da lei che aveva concorso alle politiche del 2022 quindi inevitabilmente si tratta pur sempre di forze che già esistevano e che per l'appunto hanno tentato di riunire non tutto perché così non è ma una buona parte del fronte del dissenso all'interno di questa lista va nella stessa direzione anche un altro simbolo che era uno dei pochi che inizialmente stava tentando diciamolo serenamente di raccogliere firme che è insieme liberi che si vede nella parte destra del trassegno che poi c'è sotto questa uscita che io ho pensato ho pensato dice se cambiano idea cioè come è successo quelli di Italexit c'è uscita che li prende il posto loro e beh in realtà da un certo punto di vista era anche un modo per evitare di usare un anglicismo quindi di utilizzare Italexit o Exit sarebbe stato sufficiente in quel caso perché poi conoscendo la lingua si può giocare parecchio però si tratta di una delle forze politiche che ha avuto che ha la base comunque il Tri di Venezia Giulia lo si è visto alle ultime le ultime elezioni nei mesi scorsi non c'era uscita con il tricolore all'epoca però il concetto era sempre il sole il sole giallo e blu comunque come fondo e era pur sempre tutto a partire dall'area del dissenso non solo in ambito di politica sanitaria ma anche in altri in altri settori e chi aveva rappresentato Grossi se ricordo bene il leader chi aveva rappresentato quella forza politica ha proprio detto in conferenza stampa in passato ci siamo divisi è stato un errore è stato un errore perché a quel punto il nostro fronte non ha avuto peso e quindi ci siamo pregiudicati la possibilità di avere adeguata rappresentanza e anche rappresentazione perché la possibilità di essere disegnati in un'aula e di essere presenti è rappresentanza ma è anche rappresentazione del voto e quindi visto che non si era arrivati a percentuali utili stavolta cerchiamo di stare insieme proprio per questo e questo è stato il motivo per cui si è fatto questo tipo di operazione quando Liberi era una delle forze politiche insieme a Democrazia Sovrania Popolare di Lizzo e Toscano che avevano depositato i loro moduli nei comuni delle segreterie comunali per la raccolta delle firme quindi di fatto c'è stato un appello invito di De Luca che è stato raccolto da più di una forza ho capito allora uno dei diciamo dei simboli che mi ha dato che diciamo mi ha ispirato più fiducia degli altri è questo del PMD partito moderato moderato d'Italia perché c'è questo soldato qui che praticamente campeggia in bella vista con un doppio colore adesso credo che sia rosso e blu se non mi sbaglio rosso e blu che mi dà proprio un senso di cioè se avessi dovuto uscire qual è quello più serio che mi dà avrei scelto quello lì quello ha anche una storia particolare perché in effetti era una delle forze politiche già esistenti anche se non così nota anche perché il suo promotore Paolo Silvani noto come Vister Valle Verde perché la sua famiglia ha rilevato il marchio di Valle Verde comunque in presa calzaturiera di fatto aveva acquistato pagine di quotidiani in passato prima col progetto Sveglia Italia e poi con questo partito moderato d'Italia per cercare di parlare di questo progetto quindi ma stiamo parlando di mesi fa eravamo sotto pandemia in quel periodo quindi in teoria è qualcosa che parte da lontano anche ha avuto parecchi applausi se ricordo bene in conferenza stampa nell'ultima conferenza stampa affollatissima perché naturalmente si sono presentate 5-6 liste tutti in una volta quindi non è una cosa di poco conto anche se certamente un conto è progetto teorico un conto è fare l'imprenditore un conto può effettivamente ottenere le preferenze però davvero c'è veramente di tutto e potrebbe arrivare ancora altro come diceva certo senti prima di fare la scorpacciata delle colombe io volevo chiederti una curiosità mia chi è Rizzi cioè hanno giocato su Rizzi perché qualcuno poteva pensare a Rizzo che insomma qualche voto lo becca secondo me ma in realtà vado a memoria Rizzi di cui ammetto in questo momento non sto ricordando il nome ma lo recupero molto a breve Rizzi è un ambientalista che ha fatto parecchie battaglie da questo punto di vista e è stato inserito proprio per questo motivo perché comunque come capitano ultimo è stato inserito come persona notevole che poteva portare il suo contributo alla causa perché comunque la causa ambientalista ha sempre avuto una certa attenzione e quindi si può stupire Enrico Rizzi per l'esattezza 34 anni di Trapani che però di battaglie ne fa da metà della sua vita quindi tra l'altro è una persona che è tuttora sotto tutela perché per esempio aveva fatto parecchie denunce per gli animali che erano sfruttati fin di lucro quindi evidentemente anche un soggetto assolutamente non irrilevante visto che prima sono d'accordo con Enrico Rizzi cioè la battaglia di Enrico Rizzi è anche la mia ecco mi sembra giusto visto che prima non avevo detto il nome il soggetto che rappresenta partito pensionati più salute è Giacinto Boldrini ex parlamentare appunto eletto con il PDL però in quota partito pensionati allora visto che non avevo detto il nome mi sembrava giusto per una questione di corretta certo senti io passerei alla guerra delle colombe noi abbiamo visto che Michele Santoro ha presentato una colomba con un partito come si chiama pace terra pace terra dignità e dignità che mi ricorda un po' i nomi dei partiti della Repubblica Democratica tedesca che affiancavano la 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 come hai trovato la scelta stilistica della colomba e quante colombe abbiamo trovato nel credo che sia anche i verdi i verdi europei che hanno in realtà il problema nasce proprio da lì nel senso che era stata scelta la colomba ovviamente come l'idea era la colomba della pace che notoriamente Picasso nasce da Picasso come una delle ispirazioni una delle colombe era stata usata anche in una delle prime grafiche ma appunto Picasso ne ha fatte diverse nel corso del tempo però è ovvio che l'idea della colomba con rametto d'ulivo in particolare ha una storia molto più antica ovviamente anche biblica anche nella storia nella storia cristiana non soltanto quindi è un segno più ampio addirittura se ricordo bene Andrea Rauch e Gianni Sinni immaginarono una colomba su una bandiera rossa come un possibile emblema una modesta proposta anzi per il partito della sinistra ma era già stato fatto l'albero della sinistra di Bruno Magno per il PDS all'epoca però fu fatto anche questo ricordo che Andrea me ne parlò a suo tempo in realtà in Italia la colomba non era certo una new entry era già stata utilizzata da tempo in particolare la utilizza da più tempo un soggetto addirittura dagli anni 70 che non è rimasto in silenzio infatti qualche giorno fa ovviamente prima di Pasqua la lista pace a terra l'unità Tantoro in particolare e il partito la forza politica maggiore che l'ha co-promossa cioè di fondazione comunista hanno ricevuto una diffida hanno ricevuto una diffida da parte di un legale contattato da chi? dai verdi del Sud Tirolo verdi di Grunewerk che utilizzano su fondo verde una colomba della pace qualificata che era proprio inizialmente non è solo ti ricorda le colombe della guerra? no è un po' difficile ne sopravvivono poche credo dicevo quel simbolo era mutuato direttamente da un'altra forse la più famosa colomba di Picasso della pace senza rametto d'olivo in quel caso è stato leggermente ridisegnato da qualche anno ma il soggetto chiaramente è lo stesso e si era fatta questa diffida per dire guardate che questo viola la legge elettorale perché dovete utilizzare un simbolo che non sia confondibile con altri simboli anche se normalmente questo emblema non partecipa alle elezioni politiche non fosse altro potrebbe farlo giusto al senato nei collegi nominali perché lì ha un deposito a parte che non si fa al biminali si fa a livello locale e comunque è un soggetto che ha partecipato alle elezioni amministrative in più occasioni e che non parteciperà con propria lista ovviamente alle ultime alle elezioni europee perché non è previsto un deposito differenziato cioè bisogna usare lo stesso simbolo in tutta Italia naturalmente e quindi l'idea è che non faccia liste c'è alleanze verde e sinistra del resto a coprire quell'area visto che sono comunque verdi di quell'area lì la Colomba ovviamente Santoro ha replicato oltre che dolendosi del fatto che la diffida venga con riserva di azioni legali di richiesta al biminali di non ammettere il simbolo o comunque di opporsi alla sua ammissione disagio per il fatto che venisse una zede proprio da quell'area lì evidentemente ma dall'altra parte c'è anche l'idea che sì la Colomba è l'unico elemento di somiglianza però la Colomba non è esclusiva non può essere esclusiva di quella forza politica nemmeno come idea della Colomba della Pace e poi comunque il disegno è diverso è diverso il colore del fondo sono diversi i dettagli della Colomba sono diverse le scritte una battaglia che in questo può ricordare molto qualcosa che in casa Rifondazione ricordano molto bene perché quando nacque il partito dei comunisti italiani nel 1998 Rifondazione si oppose dappertutto all'ammissione del simbolo con la doppia bandiera con Martello Stella sul fondo rosso tricolore sotto in qualche comune andò bene in qualche comune quel simbolo venne mantenuto in qualche altro comune venne come chiedeva Rifondazione Bocciato all'Europe nel 1999 il simbolo dovette cambiare colore perché il ministero dell'interno l'aveva ammesso quello dei comunisti italiani la Cassazione disse che però il soggetto doveva poter essere chiunque si ritenesse comunista ma l'abbinamento di quel disegno o qualcosa di simile su fondo bianco con scritte nere c'era in tutte e due creava questo la confusione fu messo in fretta il colore blu sul fondo con il testo bianco e questo fu ritenuto da allora sufficiente per evitare ogni tipo di confusione certo i verdi del Suttirollo hanno il fondo verde questo il fondo rosso i testi sono completamente diversi non mi azzardo non mi sbilancio certo di Colombe ne abbiamo avute altre anche rappresentate in Parlamento il Movimento per l'autonomia o per le autonomie o in quagli altri modi si è via via chiamato di Raffaele Lombardo la colomba ce l'aveva non aveva un ramo d'udio aveva un nastrino tricolore in becco ma il concetto era simile tra l'altro la colomba della pace utilizzata in politica me lo aveva ricordato anche qualcuno e del resto la mia terra non mente chi avesse visto Don Camille l'onorevole Peppone non vede proprio il simbolo ma vede una delle colombe della pace una gigantografia sulla scenografia di uno degli incontri quello in cui parla la compagna Clotilde in una delle prime scende del film quindi diciamo che colombi in politica pace in quell'area sono già state utilizzate direi anche prima dei verdi del Sottirolo porta fortuna avere la colomba nel simbolo ci sono stati grossi successi diciamo che per una forza politica che ha una sua specificità territoriale è difficile parlare di successi però certamente è comprensibile che loro abbiano reagito perché è un segno che li caratterizza da sempre naturalmente i problemi sono altri in questo momento per Santoro il primo problema Santoro Raniero Lavalle Benedetta Sabene e le altre persone che ne fanno parte il primo problema sono le firme perché essendo venuta meno esenzione attraverso la fondazione comunista loro le firme le devono raccogliere sono state dimezzate quindi ne dovranno raccogliere 75 mila non più 150 mila ma non sono poche e 1500 firme per regione compresa la Valle d'Aosta in Molise e la Basilicata non sono comunque una passeggiata di salute certo è abbastanza difficile senti io ti ringrazio per questo tour che abbiamo fatto nei simboli diciamo della Costellazione di De Luga e nel cosiddetto partito delle Colombe diciamo io ho scoperto tante cose che non che non sapevo grazie a Gabriele Maestri che diciamo è un esperto in questo diciamo in questo in questo mondo in questo sottobosco parlamentare dove c'è veramente di di tutto ci sono tante persone valide bravissime intelligenti che però insomma cercano di di trovare il loro il loro spazio politico io ritengo che parlare anche di di queste persone sia un bene per la politica perché anche loro hanno hanno diciamo devono avere il loro spazio politico e devono essere conosciute io volevo chiederti se avevi altre cose se avevi altre cose da aggiungere o se ci possiamo fermare qui io direi che ci possiamo fermare ma ho il sospetto che tra qualche giorno non proprio subito ci risentiremo di nuovo perché ci saranno altre novità ci sono simboli ancora fluidi mostrati anche quando qualcuno non aveva ancora ufficialmente aderito vedremo mi permetto solo di dirti che qualcuno ha già colto il suggerimento che avevi dato perché a Roma 3 da alcuni anni anche grazie a sottoscritto esiste il corso di diritto dei partiti italiani comparato quindi ci abbiamo pensato per fortuna beh certo ma infatti pensavo che dovesse esserci una disciplina del genere perché le notizie e i fatti sono veramente tanti magari un giorno ci potrà anche essere un'encicopletia perché diciamo dei simboli dei partiti politici magari ti ho dato un'idea per per fare un lavoro di questo di questo genere oltre ai ai bei lavori che hai fatto come quello sulle elezioni padane che secondo me è un autentico capolavoro della storia della storia politica italiana io ti ringrazio ringrazio Gabriele Maestri noi ci diamo appuntamento nei prossimi giorni perché tanto io penso che le sorprese in queste elezioni europee non mancheranno e quindi avremo modo di discutere di queste e di tanti altri argomenti per il momento grazie a Gabriele Maestri lo faremo pezzetto pezzetto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti